Ciao ragazzi, qui José, dallo Sheraton di Milano, stiamo per fare un'intervista importantissima all'ideatore della biologia delle credenze, ossia Bruce Lipton. Lo intervisteremo in esclusiva per ricchezzavera.com e gli chiederemo cos'è la ricchezza vera per lui. Perciò adesso andiamo ad accogliere Bruce Lipton! Siamo la comunità di vera e vera in Italia, quindi la prima domanda che vorrei chiederti è che cosa sia la vera e vera? È un buon mente e un buon sentimento, perché le celli sono controllate dalla chimica del cervello. Quando siamo nel nostro cervello e siamo nel amore, il cervello rilasce la chimica che crea una grande salute. Uno dei chimici che è creato in l'amore è chiamato il growth hormone. E il growth hormone, come la chiamata dice, aumenta la crescita della nostra vita. Quindi quando la gente è in l'amore, la gente dice, «Oh, you can see they're in l'amore, they glow, they're so healthy». Questo non è un accidente, questo è il risulto della chimica del cervello. In contrasto, quando siamo in stress, le chimiche del cervello shuttano la crescita, e le chimiche del cervello shuttano l'immunità. E quindi quando la gente è in stress, la gente comincia ad agire più veloce, perché l'immunità non funziona bene. E ora, oggi, noi sappiamo che 90% dell'immunità è causa del stress. Quindi, una vita senza l'immunità? È una vita senza l'immunità. E questo significa che abbiamo bisogno di come dal nostro cervello e essere in love con il mondo. Non in love con solo un person, ma in love con la vita. perché il cervello stia dicendo le celli come la sua vita, e le celli respondono a quello che il cervello sees. Questo è la parte più importante per l'immunità, per esempio. La maggior parte della malattia è stress-relata. e per cambiare, non per prendere druggi, ma prima di cambiare la mente e il cervello, e poi la chimica nel tuo corpo te darà una grande salute. Grazie. Quindi, ci sono alcuni miracolosi che necessitano a volte, a volte, a volte, a volte, o a volte, e alcuni miracolosi che necessitano a volte. Sì. Come si può essere un'immunità per generare un'immunità miracolosa? Il risultato viene prima dalla chimica del cervello, perché la mia ricerca ha mostrato che la chimica del cervello controlla il comportamento e la genetica. Quindi, se vuoi cambiare il comportamento, se vuoi cambiare la genetica, per definizione, devi cambiare la chimica del cervello. Le cervello è il chimico, il cervello è quello che mette diversi chimici in il cervello. E poi mi dice, ma che chimici dovrebbe mettere il cervello in il cervello? E poi mi dice, quali sia la picture della mente, il cervello interpreterà la picture e diventare la chimica. Quindi, se vuoi cambiare la chimica del cervello, la chimica del cervello. Quindi, se vuoi cambiare la chimica del cervello, come un video camera. Quindi, quando sei molto, tu guardi le persone, e tu guardi le comportamenti. E, come una camera camera, il comportamenti del cervello ma se vuoi cambiare la chimica del cervello, ma se vuoi cambiare la chimica del cervello, il cervello dell'Eviva è non science fiction. Il cervello dell'Eviva è un documentario. Abbiamo tutti stato programato. Il problema è che pensiamo che stiamo creando la vita con la mia pensione, con le pensi e desideri. Ma la verità è 95% della nostra vita viene dal programma, e dal programma viene dal altri. Quindi, 95% della nostra vita non ci sono i nostri desideri. 95% della nostra vita è quello che abbiamo aprenduto da altre persone. La Jesuita, per 400 anni, ha detto «Give me un bambino un bambino e il bambino e l'abbiamo il bambino ». L'abbiamo che lo che ho ha detto è quello che ha detto il programma prima è il subconsciente e 95% della nostra vita viene dal che ciò che ho nello ha detto che ha detto l'abbiamo a che ha una cosa che è positive and I go that's very nice but for an average person only 5% of the day are you coming from conscious mind and 95% from the program and how important is the program very here's a story very simple when a baby is adopted into a family that has cancer running in the family the baby when it will grow up will have the same cancer from the family but the baby came from different genetics so it wasn't the genes that were really causing the cancer it was the programming and the way people live that is programmed into the subconscious that causes the problem so how can someone heal fast and someone heal slow and the answer is how much of your life is coming from the conscious mind and how much is coming from the subconscious mind so to give a very good example because it's one of my books it's called the honeymoon effect I say your life every day could be blah 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 every day blah 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 then you meet one person and you fall in love in one day the next day life is heaven on earth life is beautiful life is healthy life everyone is happy I said every day blah 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 24 hours later heaven on earth how come now we know the answer science the science answer when you fall in love you don't play the subconscious program you play the conscious one which is wishes and desires so when two people fall in love they're not playing the program they grew up with they not even playing that they're just playing conscious wishes and desires so what do two people create when they're making wishes and desires heaven on earth health happiness honeymoon and I say that's the difference between playing the program or playing the conscious mind love will stimulate that but then a problem the honeymoon doesn't last forever the honeymoon short time I say what happened because we now know why do we play the subconscious so much and the answer is when we are thinking the conscious mind is thinking inside so when we are thinking life is controlled by the program the subconscious so that's why five percent of the day we are not thinking we're just being and then we control our life with conscious 95% of the day we are thinking and then our life is controlled by the program so the honeymoon stop the program create a honeymoon but at some time you start thinking again the job the work you have to do something you're thinking about things you have to do and when you start thinking the old program plays and the old programs destroy the home so the honeymoon is an example of what would happen if you don't play subconscious program health happiness heaven on earth but the moment the subconscious programs play it's gone and now you become the program you're welcome very much thank you you